Questo video riguarda i migliori 3 trita rifiuti. Il vincitore della qualità è l'Insink Creator 77971H. Questo modello da 0.65 cavalli vapore è un potente trita rifiuti, che macinerà rifiuti quali avanzi, scorze o pezzetti di cibo eliminati mentre si cucina. Basterà svuotare piatti e taglieri nel lavello e risciacquare. Il model 66 è adatto a ossa di medie dimensioni e trita tutto molto bene grazie ai componenti di macinazione in acciaio inossidabile, è quindi ideale per famiglie. Il dispositivo è silenzioso, grazie alla tecnologia di riduzione del rumore che assicura 20% di rumore in meno rispetto ad altri modelli e presenta inoltre un interruttore che consente di azionare facilmente il trita rifiuti senza necessità di installare un interruttore separato. Garantisce una riduzione di almeno il 20% dei rifiuti, che ora possono essere discretamente lavati via senza odori, cestini dei rifiuti sporchi e sacchetti dei rifiuti che sgocciolano. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Insink Creator 77970H. Un equivoco comune è che uno smaltimento di rifiuti alimentari funziona come un contenitore standard o un'unità di compostaggio. Tuttavia, la realtà è molto diversa. Uno smaltimento di rifiuti alimentari Insink Creator è montato sotto la maggior parte dei lavelli domestici, collegati alla presa delle acque reflue. Gli smaltimenti per rifiuti alimentari Insink Creator sono perfettamente sicuri e non hanno lame o coltelli. Invece di marcire nella vostra casa, i rifiuti alimentari possono essere macinati nel vostro smaltimento e inviati agli impianti di trattamento delle acque reflue dove possono produrre biogas preziosi e altri nutrienti vitali del suolo. Gli smaltimenti di rifiuti alimentari distogliono circa il 20% dei rifiuti domestici lontano dalle discariche e hanno dimostrato di avere un'impronta di carbonio inferiore rispetto alla raccolta a bordo marciapiede. Il vincitore del premio è il Franke Tritarifiuti. I sistemi di smaltimento dei rifiuti organici Enhanced Turbo Elite di Franke sono progettati per liberare la tua cucina da odori sgradevoli e avanzi di cibo preparato malsano. Un veloce e affidabile motore a magneti permanenti combinato con un moderno sistema di molatura risolve il problema in pochi secondi. Basta aprire l'acqua, scaricare i rifiuti nel macinino e il Turbo Elite farà il resto. La tecnologia antibatterica riduce la formazione di odori sgradevoli. Innovativo sistema di triturazione. Triturazione più rapida dei rifiuti combinata con meno vibrazioni del prodotto. Camera e ruota sono resistenti alla corrosione e perfettamente bilanciate per una maggiore durata. Tutti i paraspruzzi delle smerigliatrici Turbo Elite sono facilmente rimovibili per una facile pulizia e sostituzione. Il moderno sistema di fissaggio a tre bulloni garantisce un'installazione facile e veloce. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.